Un prelievo dalle tasche dei cittadini campani di quasi 100 euro al mese per le fasce di reddito superiore ai 15.000 euro all'anno. Un vero e proprio salasso denunciato dal capo dell'opposizione in consiglio regionale della Campania Stefano Caldoro che punta all'indice contro l'ultima manovra varata dall'esecutivo di De Luca. Io credo che sia ignobile e un vero scandalo nazionale imporre ai cittadini del sud e della Campania, in una regione in difficoltà economica, le tasse più alte d'Italia. Questo è il vero scandalo, è la vera questione ignobile che andrebbe denunciata con grande forza da tutti e non accettabile. Tra l'altro si può fare un intervento in consiglio regionale e si possono immediatamente togliere. Sono tasse che arriveranno tolte, soldi dalle tasche dei cittadini per un importo anche vicino ai 100 euro al mese. Immaginate voi, e sono tutte le classi di reddito, tranne una piccola condizione praticamente di chi non viene toccato sotto i 15.000 euro. Chi guadagna sotto i 15.000 euro sarà aggredito nelle tasche da queste tasse ignobili che hanno un nome e cognome. Il presidente De Luca, e tra l'altro non ci dice questi 100 milioni di euro in più che toglie dalle tasche dei cittadini per farne che cosa. Situazione drammatica dunque anche per il sistema della sanità, nonostante le attese e le promesse sempre agli ultimi posti della regione. C'è un misto di clientelismo, familismo, si accontentano gli amici, gli amici degli amici, si sprecano risorse, si buttano soldi. I nostri pronti soccorsi, il Cardarelli, un giorno senza Barelli, tutti i resti dei giorni dell'anno pieno di Barelli, nel pronto soccorso, ma non è solo la questione del Cardarelli. Siamo ultimi in Italia per sanità, dichiarati ultimi in Italia per occupazione, dichiarati ultimi in Italia sul trasporto pubblico locale e ultimi in Italia sul ciclo dei rifiuti. Recordo assoluto. Ma Caldoro, che in queste ore sta tessendo una tela con gli alleati per cercare di capovolgere le ultime scelte, interviene anche sui mancati provvedimenti a favore dei giovani. La regione non fa nulla, speriamo che il Comune faccia qualcosa con Manfredi, vedremo anche lì siamo un'opposizione attenta, costruttiva, non facciamo denunce tanto per fare. Siamo opposizione, ma se si fanno cose buone siamo i primi a sostenerli. Per fortuna fa qualcosa il governo, come lei ha ricordato, tutta la partita sulle nuove imprese, sulle start-up sono tutte iniziative del governo nazionale. Da parte della regione non c'è nulla, né in termini di investimenti né di idee.